Ehi, Alan, ho lasciato lì il mio martello. Tieni. Merda. Chi tira martelli? Ne conosce di gente? Eh già. Allora. Allora. Vuole aiutare gli Stati Uniti? Non ci saranno più guerre dopo questa tua invenzione. Alan! Senti, devi darmi una mano a trovare un tizio. È un centenario completamente svitato. Si chiama Alan Carlson. S'è fregato i miei soldi. Trovatelo subito e portatelo qui. Pronto. Considerati già morto. Se vuoi ammazzarmi devi sbrigarti. Ho cento anni. Stronzo. Alan! Il compagno Stalin vuole che gli dica tutto ciò che sa sulla bomba atomica. Prima un goccetto, grazie. Viva la leva du Chiar. È Alan Carlson. È Alan. È lui quell'auto. Guarda. È Alan Carlson. Con la mia valigia. Fa qualcosa. Vai addosso. Fa qualcosa. Ciao, ciao!